L'appunto di non ritorno che ospiterà Là dove la mente cerca tranquillità Trova continuamente cammini inaspettati Strade che conducono nel caos Sta impressa nella testa un'identità Va, viaggia tra convinzioni ed insisterà Trova incessantemente ragioni immaginari Cose che conducono nel caos Se la fede condizionerà Forse al punto di pensare Che questa città, quei discepoli Siano pronti a crederti Che tu sia il salvatore Nostro Signore Ma, vorrei che mi spiegassi l'umanità Già, ho visto che tante persone professano qua Vorrei che fosse palese La natura che ci ha creato Sapere se abbiamo un'altra chance Stai attento anche al loro professano come te Di portare il messaggio di Dio macchimente Prova a spiegarti meglio E cerchiamo una soluzione Se sei tu davvero il mio Signore Se la fede condizionerà Forse al punto di pensare Che questa città, quei discepoli Siano pronti a crederti Che tu sia il salvatore Nostro Signore Nostro Signore Che tu sia il salvatore Grazie a tutti